Un caro saluto a tutte e a tutti, ancora notizie sul mondo del lavoro. La scorsa settimana, giovedì per la precisione, è stata firmata una convenzione fra l'Inps, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, CGL, Cisleville e Confindustria, che dà avvio a un processo di censimento della rappresentanza sindacale, sulla base di un accordo del lontano 2011. Quindi l'Inps dovrebbe farsi carico di registrare le deleghe, vale a dire le iscrizioni dei lavoratori ai vari sindacati e poi si dovrebbero anche censire con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie. Una operazione sicuramente molto complessa che avrà bisogno anche di un periodo, a mio avviso, di rodaggio. In ogni caso tutto questo consentirà per la prima volta di avvicinarci all'obiettivo di censire la reale rappresentatività dei sindacati salvaguardando quello che è il pluralismo sindacale, come dice ovviamente la nostra Costituzione. In questo modo si continua ad andare nella direzione di avere dei contratti che siano allineati a degli standard di qualità e di dignità, sconfiggendo quindi il dumping salariale e il dumping normativo e puntando sulla qualità della contrattazione, l'unico strumento che è capace non solo di salvaguardare le retribuzioni ma anche le tutele e le normative che fanno riferimento alla complessità del rapporto di lavoro.